Questo non è il solito tagliere di affettati. Smici sono risate, amici che arrivano all'improvviso. Ecco perché il tagliere di Carlo e Alessandra è sempre speciale. E su quella tavola, birra Moretti è la ricetta giusta. Viva la semplicità, la tavola più che mai. E tu, perché non ti siedi con noi? Birra Moretti, il gusto della sincerità.